Caccia ai banditi in tutto il nord est dopo la rapina a mano armata caduta ieri sera al vale center di Marcon, portati via gioielli per 200 mila euro, due dipendenti sequestrate, posti di blocco e controlli alla ricerca del comando. Ammontano a 74,5 milioni di euro i ristori e i privati danneggiati dal maltempo che ha imperversato la scorsa estate in Friuli Venezia Giulia, individuati quasi 11 mila beneficiari. L'imprenditore portogruarese Luigi Bugio a San Remo nella settimana del festival per dare assistenza ai lavoratori del settore musicale. Lunedì era il gala dove c'è stato l'allarme bomba, tra poco in collegamento con il nostro studio. Un libro e un film sull'iter a difesa del parchetto dell'ex fiera di Pordenone lo annunciano lega ambiente e il comitato i tigli. Se diventa ufficiare che gli alberi hanno più di 70 anni dicono che nessuno li potrà tagliare. Ben ritrovati con l'informazione di media 24. Dunque a Marcon una banda di professionisti è entrata in azione ieri sera assaltando una gioielleria al Vale Center, al notto centro commerciale. Bottino di centinaia e centinaia di migliaia di euro e oggi è caccia ai malviventi in tutto il nord-est. Il servizio di apertura. Due minuti e mezzo di terrore, l'incursione di una banda armata, una prima commessa presa come ostaggio, poi una seconda, i gioielli depredati dalle vetrine, quindi la fuga a cui sono seguite, sgomento, paura e incredulità e la caccia ai malviventi estesa oggi in tutto il nord-est. Forze dell'ordine al lavoro senza sosta dopo la rapina a mano armata andata in scena ieri sera, poco dopo le 19 al Vale Center di Marcon. I banditi con fucili a pompa e calasnico vanno colpito al negozio gioielli di Valenza, esercizio situato al piano terra del centro commerciale. Il bottino di diverse centinaia di migliaia di euro. Una foto ritrae una lavoratrice immobilizzata da un uomo incappucciato che imbraccia un fucile. In quei momenti gli altri membri del comando stanno depredando le vetrine. Poi sarà la volta di un'altra lavoratrice che, dato il panico della collega, in lacrime quasi accasciata al suolo, si offre al bandito come ostaggio nel momento di uscita della banda all'esterno. Si tratta di un comando che va dalle 4 alle 6 persone. I clienti si spostano dalla galleria, quelli presenti negli altri negozi si baricano all'interno. Terminato il colpo, i malviventi escono con la seconda lavoratrice come ostaggio, caricano la refurtiva dentro una Fiat Panda rossa e scappano servendosi anche di una Volkswagen Golf. Il primo mezzo, ossia la Panda, verrà ritrovato in serata dalle parti del mondo convenienza. È una zona vicinissima all'autostrada e quindi alle vie di fuga. È probabile che fuori ad attendere il gruppo vi siano stati dei complici che poi sia stata utilizzata un'auto pulita per scappare senza dare nell'occhio in A4 o lungo le varie provinciali esistenti. Nel frattempo arrivano le forze dell'ordine, il Vale Center viene evacuato, le commesse soccorse sotto shock, ma per fortuna in Columi. Nessun colpo è stato esploso, ma data la velocità dell'incursione si pensa che ad agire sia stata una batteria di professionisti che ha studiato il tutto nei minimi dettagli. La scientifica tarda sera inizia con i sopralluoghi alla ricerca di ogni dettaglio sulla scena del crimine. Ogni particolare viene passato al setaccio, a cominciare dalle videocamere di sorveglianza del centro, le testimonianze delle lavoratrici e di chi può aver visto qualcosa alla ricerca di ogni dettaglio utile all'attività investigativa. E questa mattina abbiamo sentito, intervistato il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, che si è collegato con la nostra redazione per le impressioni a poche ore dall'incursione che ha sconvolto l'intera comunità. Sentiamo il sindaco. E noi siamo collegati proprio con il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, dal suo studio in municipio. Sindaco, ben ritrovato e grazie della disponibilità. Buongiorno, grazie dell'invito. Senta sindaco, lei ieri sera era all'esterno del Vale Center, subito dopo l'accaduto. Le chiedo ovviamente l'aggiornamento di oggi relativamente se le ha sentite o se ha avuto qualche notizia alle due commesse. Come stanno? Immagino ovviamente sotto shock, ma già da ieri sera si è capito che fortunatamente sono in columi. È così, no sindaco? Sì, assolutamente. Le ragazze stanno bene e sinceramente questo è l'aspetto più importante di tutta la faccenda. Un aggiornamento odierno non lo ho nei confronti delle ragazze. ieri sera fino a ora tarda mi sono trattenuto con loro. Il momento era concitato, sono stati momenti di panico, di paura, ma posso rassicurare insomma tutti che effettivamente dopo un momento di shock, di massima adrenalina, le ragazze adesso stanno bene, sono tranquille e quindi direi che viviamo tutti un sospiro di sollievo per questo accaduto. Ecco, la caccia ai banditi è stata estesa in tutto il nord-est. È accaduto ieri sera a Marcon, ma è chiaro che il tema della sicurezza è in primo piano. Ieri sera è toccato a lei e ci si augura che non possa accadere più a nessun altro primo cittadino, ma è normale che quello che si è vissuto al Vale Center di Marcon pone agli occhi dell'attenzione pubblica il tema della sicurezza. Forze dell'ordine che sono arrivate subito sul posto, ma è chiaro che da primo cittadino che cosa si sente di dire su questo tema? Che l'evento è sicuramente un evento eccezionale, difficilmente preventivabile e come ho detto ai colleghi stamattina, sono felice da un certo punto di vista che le forze dell'ordine siano arrivate 5 minuti dopo invece che 5 minuti prima, perché una banda di malviventi così dotata di armi e questa aggressività che è stata utilizzata sicuramente in uno scontro o nel momento in cui si fossero barricati all'interno del centro commerciale avrebbe portato a uno scontro a fuoco o a mettere a rischio la vita dei civili e dei concittadini che erano presenti all'interno del centro commerciale. Quindi da un certo punto di vista tiriamo un sospiro di sollievo. Erano organizzati, erano dei professionisti, lo possiamo dire oggi a gran voce e sicuramente conoscevano anche il luogo che andavano a rapinare. Quindi sarà molto importante non solo fare una verifica di tutte quelle che sono le riprese oggetto di rapina ma anche quelle precedenti per verificare atteggiamenti o comportamenti strani da parte di coloro che effettivamente potrebbero essere stati oggetto insomma dei soggetti di questa rapina. Ecco Marcon, sindaco che questa mattina chiaramente si è risvegliata in credula, sotto shock, ancora scossa e turbata come tra l'altro tutti i comuni vicini ma non solo perché chiaramente questa notizia ormai domina anche le prime pagine nazionali. Per un sindaco anche come lei giovane com'è gestire una situazione chiaramente così improvvisa e così anche sentita non potrebbe essere altrimenti per la sua comunità. C'è una grande carica emotiva da parte mia perché come ben può capire potevano esserci le mie figlie o mia moglie o poteva esserci qualsiasi cittadino del comune di Marcona all'interno dello stabile. È un evento come dicevo del tutto imprevedibile che poteva riguardare qualsiasi altro centro commerciale della nostra provincia di città metropolitana di Venezia e come affermava nelle prime dichiarazioni a caldo anche il presidente Zaia proprio ieri sera è un evento a cui non siamo abituati ma non solo in città metropolitana di Venezia ma neanche per quanto riguarda la regione Veneto. È da anni che non vediamo avvenimenti o rapine a mano a Marta con queste caratteristiche, con queste modalità e quindi abbiamo il dovere di continuare a implementare tutti quelli che sono i sistemi di videosorveglianza o quelle che possono prevenire eventi di questa entità però ce lo diciamo a gran voce che probabilmente uno scontro a fuoco o un trovarsi di fronte alle forze dell'ordine non avrebbe giovato alla situazione anzi avrebbe messo ulteriormente a rischio la vita di coloro che in quel momento si trovavano all'interno del nostro centro commerciale. Grazie sindaco per la disponibilità ovviamente un in bocca al lupo a lei, a tutti i cittadini e chiaramente la vicinanza alle due commesse. Grazie sindaco di nuovo e buon proseguimento. Grazie a voi, grazie dell'invito, a presto. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8.30 in A4 nel tratto barriera Trieste-Lisert-Re di Puglia in direzione Venezia. Un mezzo pesante ha dapprima colpito la barriera di sicurezza stradale poi quella laterale rovesciandosi infine sulla rete stradale, sul posto di vigile del fuoco il 118 e i mezzi di soccorso. Il camionista è stato subito medicato e ha riportato lievi ferite al lavoro chiaramente tutti i mezzi per la messa in sicurezza dell'arteria. E sono verificati due chilometri di coda. Ammontano a 74,5 milioni di euro le risorse che verranno stanziate a beneficio dei privati colpiti dal maltempo della scorsa estate in Friuli-Venezia-Giulia. Gli eventi meteorologici che si verificarono dal 13 luglio al 6 agosto del 2023. 10.776 ha reso noto oggi la regione i beneficiari per un valore complessivo di risorse come detto pari a 74,5 milioni di euro. In base a quanto previsto con delibera della giunta di fine dicembre il ristoro concesso coprirà il 45% delle voci di spesa ammissibili, gli elementi strutturali e le finiture interne ed esterne della copertura e i serramenti, oltre che le presenze dei danni che ci sono stati con le prestazioni tecniche e l'attività di supporto all'inserimento delle istanze. Il contributo concesso andrà da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 30 mila euro e potrà essere cumulato con l'indennizzo assicurativo fino alla concurezza massima del 100% del sinistro subito. Tempo di carnevale ma tempo anche di sequestri. 182 mila i prodotti finiti sotto sigillo nelle operazioni della Guardia di Finanza di Venezia. 182 mila articoli di vario genere, principalmente maschere e costumi, in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Le fiamme gialli hanno effettuato un controllo in attività commerciale di mira gestita da un soggetto di nazionalità cinese dove hanno trovato esposti per la vendita numerosi articoli privi delle indicazioni in ordine ai dati relativi all'importatore o al distributore ma anche al luogo di produzione e delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose. Il titolare ha segnalato alla Camera di Commercio. Udine sul fronte del Commercio appunto persa un'insegna su 5 in centro storico dal 2012 secondo l'ultima indagine dell'Ufficio Studi di Confcommercio. Il terziario rimane centrale ma paga una mancata programmazione urbanistica, burocratica e relativa alla pressione fiscale, dice il presidente del mandamento di Confcommercio Giovanni da Pozzo, Confcommercio provinciale di Udine. Stando ai dati dell'osservatorio, dal 2012 al 2023 il calo del 20% nel commercio al dettaglio del centro storico e del 15% dell'area non centrale. L'impatto della crisi è meno rilevante sui dati di alberghi, bar e ristoranti. In centro storico si passa da 358 a 343, mentre fuori dal centro c'è un incremento da 235 a 244 unità. Siamo nella settimana clou, quella relativa a Sanremo e c'è proprio da casa Sanremo Luigi Bugio che è un imprenditore del Porto Gruarese che assieme a Giuliano Biasin tra l'altro è anche cofondatore della friulana cooperativa Società Esibirsi che si trova proprio a Sanremo in questi giorni anche per rappresentare il mondo musicale. C'è un pezzo insomma di Porto Gruaro ma anche del vicino Friuli Venezia Giulia proprio nella città della musica per eccellenza. Ben ritrovato Luigi, raccontaci che atmosfera c'è. Ti vediamo insomma da casa Sanremo, sono giorni effervescenti questi, li stiamo vedendo. Allora innanzitutto vi ringrazio per questo spazio, auguro a tutti voi un buon lavoro e un in bocca al lupo per le vostre attività, sempre vicine a tutti noi che ci occupiamo di cultura, di spettacolo, di imprenditoria ma soprattutto di portare nelle nostre zone Veneto orientale e Priuli occidentale quello che è il sentiment di questi eventi veramente importanti ai quali siamo onorati di partecipare. Che dire se non che questa è un'edizione particolarmente esplosiva, se posso usare questo termine poi tu capirai bene anche perché non è casuale. È cominciata veramente una edizione fantastica dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista dell'adesione, dal punto di vista del pubblico già dalle giornate precedenti all'inizio proprio della Kermess c'è stata una movimentazione, oserei dire quasi il doppio rispetto alle edizioni precedenti alle quali da un po' di anni partecipiamo. Noi siamo vicini naturalmente a tutti gli imprenditori, quelli che ci occupano di spettacolo, ai lavoratori dello spettacolo con le iniziative sia di V-Stop Strumenti Musicali di Portoguaro che di esibirsi, società cooperativa vicina ai lavoratori dello spettacolo in termini di regolarizzazione fiscale, contributiva per gli eventi. Abbiamo dato anche uno spazio proprio itinerante sia in Piazza Colombo che è la piazza adiacente all'Arito dove si esibiscono poi i cantanti la sera parallelamente a Sanremo appunto di poter dare la possibilità a ragazzi giovani emergenti con brani autonomi e propri e di potersi esibire appunto in questa piazza che è diciamo l'epicentro della Kermessa Renese. Senti Luigi sai come ben sai io sono particolarmente attento alla cronaca, lunedì sera c'è stato un allarme bomba nel corso di un gala al quale insomma ci sono anche delle tue foto che stiamo proponendo, c'eri anche tu e per fortuna tutto è andato per il meglio, le forze dell'ordine sono intervenute ma immagino che siano stati dei momenti ecco particolarmente concitati quelli, no? Correggimi se sbaglio. Guarda sì, io ho avuto la fortuna che poi è diventata un po' anche una sfortuna di concludere la serata, era una serata diciamo virgola, presenza di 27 su 30 degli artisti in gara e una certa di gala distretta a Villanobe che è una villa straordinaria a Sanremo con appunto imprenditoria e la diciamo la regia di Mediaset per quanto riguarda le invitenti radiofoniche a questo evento appunto poco dopo gli antipasti e immediatamente prima dei primi parlando di portate c'è stata una segnalazione che in realtà è stata fatta con molta discrezione da parte delle forze dell'ordine alle quali faccio i miei complimenti per aver mantenuto la calma, non aver mai menzionato il termine bomba, poi abbiamo scoperto successivamente il tutto è stato evacuato in tranquillità, non ti nascondo che in certi momenti un po' di tensione si è creata ma sia gli artisti che tutti noi ospiti siamo stati veramente tratti in salvo con molta destrezza da parte delle forze dell'ordine e con tranquillità per poi scoprire per fortuna che si trattava di un falso allarme, insomma ecco, un peccato da una parte aver concluso anticipatamente un'occasione unica di condividere con gli artisti in questo momento ma da un'altra il fatto di poter poi rasserenare tutti che non c'era niente di pericoloso in sostanza. Poi una persona è stata anche denunciata appunto per procurato allarme così insomma abbiamo anche appreso. Buon Sanremo a Luigi Bugio, ai suoi collaboratori e magari ti ritroveremo per fare anche il punto della situazione di questa edizione che sta catalizzando ovviamente gli occhi di tutta Italia. Buon lavoro e buon proseguimento Luigi. Grazie a tutti voi, sempre vicini anche noi a voi che lavorate per dare un servizio eccellente alla popolazione in termini di aggiornamenti e ci sentiamo alla prossima occasione. Grazie ancora. Grazie, grazie di nuovo. Continuiamo il telegiornale. Un libro e un film sull'iter a difesa del parchetto dell'ex Fiera di Pordenone. Lo annunciano Lega Ambiente e il Comitato Itigli. Il ricorso al TAR contro l'abbattimento degli alberi, dicono con tutti i retroscena, le contraddizioni, le strategie messe in campo per far passare il progetto e le perizie con la documentazione fotografica storica allegata diventeranno un libro e tante tante testimonianze confluiranno anche in un film documentario. Soprattutto il libro permetterà ai cittadini di capire esattamente al di là delle decisioni dei giudici che, come si sa, fanno sapere dal Comitato, non sono infallibili come siano andate realmente le cose e i motivi che hanno spinto così tante persone a battersi non solo per tutelare gli alberi, l'ambiente e la socialità di cui era Fucina quel campetto da basket, ma anche per un ideale di giustizia. Se diventa ufficiale che i tigli storici hanno più di 70 anni, come testimoniano studi, persone e foto, non potranno essere tagliate, sostengono i comitati stessi. Verranno piantati alberi giovani, ciliegi e prugni che richiederanno l'utilizzo di diversi trattamenti fitosanitari. Nulla a che fare con i tigli mangasmog, un polmone verde che ha un valore economico e ambientale di 340 mila euro l'anno. A Venezia invece è presentato un progetto dedicato all'altra montagna. La montagna sta tornando protagonista nelle discussioni politiche. Il problema è che lo sta tornando per motivi sbagliati. In Veneto si parla di skylight room, per cui di camere con vista del cielo stellato, si parla di piste da bob, si parla di pass gratuiti sulla viabilità silvopastorale a vantaggio dei cacciatori, danneggiando la viabilità silvopastorale. Di fronte a questi temi, che sono quelli che stanno tenendo banco in Consiglio regionale, noi vogliamo invece dare spazi e voce a chi si sta occupando dell'altra montagna, cioè della montagna concreta, quella che richiede soluzioni da un punto di vista di politiche abitative, da un punto di vista di garanzia dei servizi pubblici, dei servizi sanitari, della possibilità di poter continuare a scegliere di vivere in quei territori, della competenza invece di chi la approccia come ospite temporaneo. Ecco, l'altra montagna è il quotidiano online che ci sta cominciando ad aprire questa nuova discussione in una maniera tecnicamente più precisa e controllata e sta aiutando davvero sia le comunità a raccontarsi, le comunità montane a raccontarsi con le esperienze dirette di chi ci abita e anche noi che viviamo in pianura o in collina nel poter davvero comprendere l'identità che sta dietro i luoghi che visitiamo. Il Dolomiti è una testata che è nata a Trento il primo settembre del 2016 in una stanzetta piccolina con un team di collaboratori giovane ma pieno di passione ed oggi è una delle realtà più importanti del nord-est che viaggia con circa 87 milioni, abbiamo fatto 87 milioni di pagine visualizzate nel 2023. Uno dei temi più importanti e che comunque sono più letti e dove abbiamo visto più riscontro da parte del pubblico è quello della montagna e così abbiamo deciso insieme a Pietro Lacasella che è il curatore di questo progetto di fondare l'altra montagna. Portale che nasce un mese fa con l'intento di raccontare le terre alte con lo sguardo di chi le vive e di chi le studia. Questo portale si struttura sinteticamente in quattro sezioni principali. La prima è dedicata agli articoli, la seconda è dedicata ai podcast, la terza invece a dei video di approfondimento. Il primo video era dedicato agli alberi cresciuti sulla frana del Vajont, sui frantumi del Vajont e alberi dalle forme particolari che si fanno monumenti vegetali alla memoria. Il secondo video invece è dedicato al settore turistico dello sci, un settore turistico che deve per forza di cose cominciare a ricalibrarsi sui nuovi scenari climatici che si stanno aprendo. Luca Micheluto è con noi, parliamo di ambiente, ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito. Ieri avevamo il vicesindaco di San Michele Teramento, Bibione Grosseto, abbiamo parlato da un lato dell'abbandono abusivo di rifiuti, tema che insomma con l'avvicinarsi della primavera torna, centrale sulle spiagge di tutto il nord-est. Quali sono anche le ultime novità su questo fronte, anche chiaramente dopo le vicissitudini che hanno visto Asbo transitare verso Veritas. Intanto mi fa piacere che lei già ha coniugato il nuovo nome del comune San Michele e Bibione, che ancora c'è un dibattito in essere, mi pare a San Michele su questa cosa qua, San Michele e Tagliamento Bibione. Noi anticipiamo, noi anticipiamo. Lei è già avanti e ha messo già San Michele e Bibione che è un'ottima soluzione come nome per il comune, insomma. No, effettivamente purtroppo noi sappiamo ormai, e spesso da questi studi li abbiamo sottolineato nel periodo invernale, artigiani, imprese, aziende, più o meno che lavorano nei binari della legalità, fanno molte opere a Bibione, dunque sulle situazioni, la strada maggioranza di questa lavora bene, dunque fa i suoi lavori, porta via i suoi rifiuti, sbaltisce legalmente i suoi rifiuti, qualcuno purtroppo usa o aree non facilmente controllabili di questa amministrazione comunale, so che sta lavorando per avere un sistema di videosorveglianza importante per controllare queste zone, che purtroppo Bibione è grandissimo e dunque non è abitatissimo d'inverno, come voi sapete, e dunque è facile nascondere rifiuti e abbandonarli a destra e sinistra. E purtroppo queste cose ci capitano sia fuori dai cassonetti, sia nei cassonetti, che troviamo spesso nei cassonetti, nelle aree ancora non portaporto dove sono ancora i cassoni stradali, troviamo dentro sanitari, televisori, carta catramata, nel peggiore dell'ipotesi anche amianto, c'è gente che vuole disfarsi in maniera furba e scorretta di un rifiuto che è pericoloso, che andrebbe invece smaltito in maniera legale attraverso dei percorsi che non sono tutti a capo ASO, perché vi ricordo che ASO non può raccogliere amianto, carta catramata, ondulux, questi sono i fili speciali. Di conseguenza ci sono dei percorsi, però abbiamo un numero verde da cui rivolgersi, perché ricordo che come consiglio di vaccino su questi rifiuti qui abbiamo fatto una gara a livello di città metropolitana con la Capogruppo, dove c'è un'azienda che è delegata a fare questo, chiaramente è un servizio che va a pagamento. Dunque abbiamo monitorato la situazione in quest'anno, con difficoltà ne stiamo uscendo, la Capogruppo che opera non solo a Bibione e Carlo, ma anche in altre realtà purtroppo è un tema presente, quello dell'abbandono o dello smaltimento errato nel periodo invernale, però insomma mi pare che in quest'anno stiamo venendo fuori in maniera molto positiva. Che estate sarà su questo fronte? Beh è un'estate buona, perché parlando con gli operatori economici, sia le aziende sia le aziende del extra alberghiero, dunque le agenzie aderenti al gruppo Abit di Bibione, che sono moltissime agenzie che hanno in mano, vi ricordo, gran parte dell'attività, perché l'attività è praticamente quattro sesti di presenze turiste che viaggiano attraverso le seconde case a Bibione, poi un sesto è circa gli alberghi, un sesto è i campeggi, se vogliamo dividerlo nei sei milioni di presenze. È molto bene, veramente un 2024 iniziato, mi dicono in gergo, in bomba, dunque molto positivo. Tante prenotazioni. Molte prenotazioni, dunque si prevede un'estate importante e dunque Veritas si sta muovendo già con i tecnici per cercare di fare nuove proposte, anche per migliorare la raccolta, che vi ricordo che purtroppo proprio a San Michele Bibione non è esaltante, è uno dei peggiori comuni dell'area metropolitana e per questo abbiamo messo in atto alcune iniziative, ne ricordo due velocemente, una è che cercheremo di aiutare le attività commerciali a tenere i loro rifiuti all'interno della proprietà o negli spazi della loro proprietà in modo tale che possono controllare maggiormente il rifiuto, dunque non possono portarlo di qua a destra, a sinistra o usare i contenitori stradali, dunque ognuno avrà il contenitore dedicato e su questo stiamo lavorando con una lettera che partirà a breve a cura di Veritas e del Comune di San Michele Bibione. e dall'altra amplieremo l'area porta a porta nell'area nord di via Cormor, quella che è tra via Cormor e via Basalega, un'area facile per noi da attuare perché è l'area dei villaggi, dunque molte presenze con un'area molto vasta, dunque possiamo fare un buon lavoro di raccolta differenziata, questo ci permetterà secondo me di poter fare un soldo di qualità all'arcol differenziata a Bibione. E poi chiudiamo, ci sarà anche quest'anno il problema degli operatori stagionali? È un problema che stiamo affrontando, non ci sono miglioramenti in questo momento qua, a breve comunque ci sarà un bando di Veritas che uscirà qui tra febbraio e marzo per la selezione di autisti a tempo indeterminato, dunque a tempo indeterminato, l'idea di stabilizzare le persone, la capogruppo e dunque tutto il gruppo di cui ASO faceva parte ha fatto un raccolto sindacale per favorire e dare un bonus, diciamo così, agli autisti che rinunceranno alle ferie nel periodo estivo, dunque questo è un po' modi per riuscire, e ultimo stiamo lavorando anche per i raccoglitori attraverso le agenzie interrinali come abbiamo fatto l'anno scorso, dunque però con fatica, non è migliorato il rapporto domanda-offerta in questi primi mesi del 2024. Grazie Luca Michilutto. Grazie a voi, buona serata. Dalla Regione Friuli Venezia Giulia un'attenzione nei confronti delle associazioni. Il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Dal 1 marzo 2024 le associazioni senza fine di lucro potranno far domanda di contributi e iniziative, la prima volta per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Dal 1 marzo per la prima volta il Consiglio regionale della nostra Regione darà contributi alle associazioni del territorio, anzi in generale per la prima volta il Consiglio regionale darà contributi direttamente con una procedura a bando, anche se è una procedura sportello, con il quale vogliamo aiutare le associazioni a realizzare eventi di carattere sportivo, culturale, storico, educativo, sociale, una vasta gamma di attività che oggi magari non vengono svolte perché mancano risorse, attraverso questa procedura, questa misura contributiva potranno ottenere contributi fino a 5.000 euro per realizzare questa attività con una procedura molto snella, molto veloce, attraverso una domanda da inserire nel portale del Consiglio regionale, pensiamo di dare una mano importante a chi fa attività sul nostro territorio e pensiamo di dare anche un riscontro a livello di indotto perché sappiamo che quando si muovono le associazioni ci sono dei riscontri sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. In occasione della celebrazione del giorno del ricordo istituito con la legge 30 marzo del 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo, Istriano, Fiumano, Giuliano Dalmata e delle vicene del confine orientale, lunedì 12 febbraio farà tappa a Venezia il treno del ricordo, un'iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i giovani che intende attraverso un treno in viaggio allestito con una mostra multimediale ripercorrere idealmente quello compiuto dagli esoli Istriani, Fiumani e Dalmati. Questa mattina presso la prefettura di Venezia il prefetto ha presieduto una riunione operativa, il prefetto Darko Pellos, per definire gli aspetti organizzativi connessi all'ospitalità dell'evento presso la stazione di Venezia Santa Lucia. Il treno storico inizierà il suo percorso il 10 febbraio da Trieste e viaggiando di notte raggiungerà 12 stazioni del paese, toccando alcune tappe significative del drammatico viaggio proprio degli esoli. Dalle 9 alle 18 del 12 febbraio, sosterà presso la stazione di Venezia Santa Lucia al binario 14, sarà possibile visitare gratuitamente i vagoni all'interno dei quali è stato allestito attraverso immagini e suoni un percorso narrativo che rievoca appunto l'esodo. E a proposito del giorno del ricordo organizzata dal comune di Pagnacco, si è svolta presso il piazzale Martiri delle Foibe una breve e sobria cerimonia in occasione proprio della ricorrenza questa mattina, un evento a cui ha presenziato anche un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un gruppo composto dal sottosegretario del Ministero degli Interni con delega ai Vigili del Fuoco, l'On. Emanuele Prisco, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dalloppio, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, Agattino Carrollo e i comandanti dei quattro comandi Vigili del Fuoco della Regione. Terminata la cerimonia Pagnacco, i vertici assieme alle autorità civili e militari sono trasferiti presso la sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di Udine dove l'On. Eprisco ha consegnato ai pronipoti del maresciallo Arnaldo Arzaric la divisa dei Vigili del Fuoco. Maresciallo Arzaric che il 16 ottobre del 43 faceva parte del 41esimo corpo dei Vigili del Fuoco di Pola, già a Italia assieme alla sua squadra fu comandato a esplorare la foiba di Vines ad Albona dove rinvenne i primi corpi senza vita degli infoibati. Anche Portogruaro celebra ovviamente la giornata del ricordo, sabato 10 febbraio alle 9.30 nel cortile della Villa Comunale ritrovo delle autorità a seguire il corteo verso il Parco della Pace e deposizione della Corona dall'Oro al cippo dedicato alle vittime delle foibe. La Guardia di Finanza di Pordenone ha dedicato oggi una giornata agli alunni della scuola primaria dell'Istituto Vendramini per parlare loro di cultura, della legalità economica e della sicurezza economico-finanziaria. Presente il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, il colonnello Davide Cardia, che ha illustrato e sottolineato a oltre 50 bambini l'importanza e il valore della legalità intesa come concorso alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva e come promozione di condotte responsabili di cittadinanza attiva. L'ufficiale ha spiegato anche l'impegno profuso quotidianamente dai militari appartenenti alla Guardia di Finanza nei diversi ambiti di intervento, dalla prevenzione all'evasione fiscale, dello sperpero di risorse pubbliche, alla lotta contro le falsificazioni, alla contraffazione, la violazione del diritto d'autore fino alla prevenzione dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. E invece Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore triestino dalla straordinaria capacità narrativa e dalla scrittura densa ed elegante, il secondo ritorno al festival dedica nel solco delle iniziative organizzate per festeggiare il trentesimo anniversario della rassegna, la cui originalità e cifra che la rende unica risiede nel voler conoscere in profondità un autore, protagonista assoluto e ogni anno diverso. Venerdì, quindi domani, 9 febbraio, Rumiz dialogherà con il curatore di dedica Claudio Cattaruzza nel teatro Mascherini di Azzano Decimo alle 20.45 nel corso della serata che l'associazione culturale Tesi si ha organizzato in collaborazione con il Comune. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, poi il TGM Sport condotto da Giuseppe e Paloma. Per quanto riguarda il TGM è tutto, arrivederci. Grazie per aver guardato il video.